Giunge la terza edizione e l'iniziativa aspettando i mondiali antirazzisti, la festa sportiva e multiculturale che ha come obiettivo combattere tutte le discriminazioni. Una serie di partite di calcio all'insegna della fratellanza che si svolgeranno tra il 1 maggio e l'11 giugno e che vedranno coinvolte numerose squadre, calciatori più o meno improvvisati, provenienti da situazioni di disagio sociale o dal volontariato vogherese. Oltre ad Invalente, la squadra formata da senegalesi, comunità romena, centro culturale islamico, amletico, profughi e detenuti della casa circondariale di Voghiera che già avevano partecipato alle scorse edizioni, quest'anno si aggiungeranno la squadra Arcobaleno e quella del Maserati Baratta. L'inaugurazione ufficiale della manifestazione avverrà il 1 maggio presso il campo dei padri Barnabiti di Via Garibaldi durante la quale si disputeranno i primi due incontri e saranno presenti animazioni oltre che un ricco buffet di cucina etnica. La prima parte del torneo, denominata Calcio senza barriere, proseguirà poi il 7 maggio per concludersi il 14 dello stesso mese. La seconda parte, ovvero il torneo in carcere, avrà luogo il 21 e 28 maggio e l'11 giugno. Molto probabile che le squadre vincitrici dei due tornei si affronteranno per una Supercoppa finale. Soddisfatti gli organizzatori che considerano, aspettando i mondiali antirazzisti, uno spiraglio all'interno della società dove le barriere vengono abbattute. Un'iniziativa importante anche per chi vive una condizione di disagio sociale. Persone che attraverso queste iniziative possono muovere piccoli passi di inclusione sociale, all'insegna di una dignità e di un rispetto spesso privati da una realtà segregante ed escludente come quella dell'ospedale psichiatrico. Tra le 14 associazioni che collaborano per questa iniziativa, presente anche Lega Ambiente, che fornirà bicchieri biodegradabili per trasmettere il messaggio che si può parlare di raccolta differenziata anche mentre si gioca e ci si diverte. Partner dell'iniziativa sono Decaton Voghera, Enaip e Timeout.